L'affresco, il quarto restaurato grazie all'inner wheel che decora le pareti della cripta della Basilica di Santa Maria de Lama nel centro storico di Salerno, è databile intorno al XV secolo. Come gli altri recuperati era molto rovinato. Il restauro è stato dedicato alla compianta fondatrice del club Elena Marsiglia De Luise. San Luca, San Bartolomeo e San Andrea. Questo è il quarto che praticamente noi restauriamo e questo restauro che abbiamo fatto quest'anno l'abbiamo dedicato alla fondatrice del inner wheel Salerno Est. Elena era sempre presente, si muoveva dappertutto. Quando si trattava dell'inner wheel era capace di rimetterci nel suo, di sacrificarsi. Le cose più belle le ha fatte lei. Dal 2015 la Basilica di Santa Maria de Lama è affidata alla locale delegazione del Touring Club d'Italia a coordinare il console Enrico Andrea. Sono 82 i siti italiani che vengono aperti e curati grazie al Touring Club d'Italia. Quando venivamo qua c'era una situazione disastrata proprio, i cancelli diversi, discarite davanti alla porta, ci rimboccammo le maniche e dal 2015, il 24 ottobre, abbiamo accolto circa 40.000 visitatori. Santa Maria de Lama è accessibile a tutti i problemi e soprattutto c'è un progetto di accessibilità all'arte per gli povedenti e non vedenti. E' una cosa meravigliosa. L'abbiamo fatta tramite un nostro socio volontario, un dottore di ricerca matematico, che è non vedente purtroppo, Michele Melve.